Ciao a tutti, la prima domanda che vorrei ripetere è una delle più comuni nei nostri commenti di media social. La risposta è sulla differenza tra una marca e una manufattura. Questa ricorda, fatta da lavoratori dell'ultima fabbrica Ferrania, mostrua centenze di brand che stavano a quel tempo. In effetti, Ferrania ha stato il principale prodotto di film bambino del mondo per molti anni. Ovviamente, Ferrania non era solo in creare film per altre brand, ma è importante capire che, anche durante il mondo del film, in questo mondo, ci sono solo 5 film manufatture. Adesso, anche se i numeri sono più piccoli che nel passato, è vero che la maggior parte dei brand nel mercato sono ancora manufatture dagli altri. In molti di questi casi, il problema di fare un nuovo film è solo trovare un prodotto proprio film e un prodotto proprio di servizi. di servizio. Ovviamente, siamo molto orgogliosi di come è stato fatto in Italia, e questo è un punto molto importante, anche se non è l'unico. Il fatto è che, essendo parte dei 5 film originali, dobbiamo fare tutto dappertutto. Abbiamo avuto questo fatto dappertutto, e per questo motivo abbiamo avuto la campagna di kickstart per salvare le macchine. Per noi, essere una compagnia semplice e una compagnia semplice di riprendimento non è mai stata un'opzione. P30 è una versione moderna dell'historica P30 ed è completamente concebita e manufattura dappertutto, qui in Cairo Montenotte. Sì, è molto ovvio. A parte dei nuovi ectachromi, direi no. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima!